Il nostro mare non è una discarica, il Mediterraneo è un mare molto delicato e col cambiamento climatico ancora più sensibile. Abbiamo il dovere di evitare che nel mare ci siano più plastiche che pesci. E' nel senso della campagna Mediterraneo da remare, l'edizione 2024 ancora più con determinazione dice no litter plastic free e vogliamo rilanciare questo appello dai comuni che hanno fatto la scelta dell'ordinanza contro la plastica, contro le bottigliette di plastica come il comune di Gaeta che ha rilanciato questo impegno. Un impegno importante per sensibilizzare sempre di più la nostra comunità, il nostro tessuto socio-economico per arrivare all'obiettivo di un mare più sostenibile, più pulito e lontano dalle plastiche.